Perché la pubblicità credo che sia sempre una forma di comunicazione importante e la pubblicità poi ha diverse diramazioni. Se noi intendiamo la pubblicità, per esempio, quella no profit, io la ritengo molto più importante di quella commerciale. La no profit potrebbe essere quella, per esempio, portata da diverse fondazioni che si interessano dell'abbandono degli animali oppure della terza età degli anziani e l'aiuto degli anziani. La distingo invece dalla pubblicità commerciale perché il target è completamente diverso. Il target della pubblicità commerciale tende a influenzare la persona ad acquistare un prodotto piuttosto di un altro. Ora, è vero che la pubblicità è sempre esistita, esistita già nell'epoca, ne parlavo prima con l'amico romano, esistita anche nella Roma antica, negli scavi del 79 d.C. a Pompei. Se qualcuno di voi ha la possibilità di vederle, ci sono dei graffiti, delle scritture murarie che invitano una propaganda politica ad eleggere una persona piuttosto che un'altra. La vera pubblicità poi ha avuto con la rivoluzione industriale, prima con il 1630 con l'invenzione della stampa, poi con la rivoluzione industriale ha avuto tutto un decorso completamente diverso. È chiaro che le tematiche sono diventate molto più assillanti. Quindi è interessante vedere anche l'evoluzione della pubblicità attraverso quelli che sono i parametri della pubblicità. I parametri più importanti di solito chiaramente è il committente, poi è il destinatario, il medium, il mezzo attraverso quelli che si estrinse alla pubblicità, il prodotto e poi anche la creatività. La creatività è molto importante nella pubblicità. Chiaramente se un prodotto deve essere commercializzato ha bisogno di una pubblicità efficace. Quella che viene chiamata, forse alcuni la chiamerebbero anche una pubblicità forte, cioè che a volte ossessiona, martella continuamente la mente dell'individuo fino proprio ad addirittura, ecco forse l'aspetto negativo, a neutralizzare quella che è la propria personalità e ad identificarsi con il prodotto. Non a caso, vedendo la pubblicità di una certa nota, marca di caffè, noi ho visto che molte persone vanno a comprarla solo perché chi la presenta è un noto attore. Quindi questo forse è l'aspetto negativo della pubblicità, quella che io definisco forse la pubblicità così, dell'inconscio, che identifica la persona con l'attore più che con il prodotto. Io mi ricordo che, ecco parlando delle perle della memoria, che mi colpiva il fatto da piccolo andando sull'autobus, ancora c'era il bigliettaio, forse vorrebbero rimetterlo, e mi colpiva il fatto che c'erano delle maniglie a cui uno si sosteneva, che però avevano questa capacità di cambiare continuamente la pubblicità. E mi ricordo ancora i nomi delle pubblicità di allora, da bambino, Manette Roberts, Capiccio per Signora. Io mi divertivo più che altro, non perché mi interessava la pubblicità, ma per il divertimento stesso che mi dava, la soddisfazione che mi dava. E quindi ho studiato la pubblicità pure sotto questo aspetto, sotto l'aspetto positivo e negativo, quello che, ripeto, che viene chiamato a volte la pubblicità forte e la pubblicità debole. La pubblicità forte è quella che io disprezzo perché annulla la personalità, fa massificare la gente dalla pubblicità debole, che invece entra nelle case per insegnare qualcosa. E quindi è una pubblicità che ha uno scopo più sociale. Un'altra pubblicità molto importante è quella istituzionale, quella pubblica, che insegna ai cittadini quali sono i loro diritti e i loro doveri. È chiaro che tutte queste pubblicità hanno un aspetto e un impatto molto più simpatico nella mente della persona che lo recepisce, a differenza della pubblicità forte che invece, come ripeto, tende ad annullare l'individuo.